Quella frase fa capire quanto molto spesso noi facciamo delle messe in scena, veramente pensiamo che gli altri non si rendano conto di chi siamo, fondamentalmente, soprattutto le persone che ci vogliono bene sentono profondamente chi siamo e noi facciamo i teatrini per dimostrare e fare, perché soprattutto il personaggio cerca di fare l'etero a tutti i costi, però chi ti vuole bene lo sa chi sei e ti vuole bene per quello che tu sei, non ha bisogno di vedere, di dimostrazioni altre, anzi sicuramente se tu sei sincero e sei te stesso ti vuole ancora di più bene perché ti sente libero e quindi automaticamente c'è la libertà di amarti in un modo più bello, più sincero. Ma quello non sarebbe un lieto fine, sarebbe un incidente di percorso, perché il fatto assodato è che i loro gusti sessuali sono totalmente opposti, è chiaro che lei si innamora di un uomo fisicamente bello, prestante e affascinante, poi però di più si innamora, poi avendo come dire appreso che è un uomo sessuale, di più si innamora di ciò che lui le offre, lui le offre molto di più del suo aspetto fisico, lui le offre sostegno, le offre amore, le offre amicizia, le offre complicità anche nell'inganno, nella commedia, perciò le offre molto di più e quindi probabilmente magari condividerà come pensiamo, un amore romantico con un uomo che ha i suoi stessi gusti sessuali e continuerà a condividere l'amore puro e senza condizioni, condizionamenti con l'uomo della sua vita che resta lui. E che anche i personaggi, i nostri personaggi crescono nel film perché anche la stessa Serena a un certo punto dice ma tu sei stato così gentile con me, sei stato così gentiluomo, mi hai aperto la porta, hai fatto quello e ha scambiato una gentilezza come per un corteggiamento quando invece uno può essere gentile anche nella vita pur essendo omosessuale. senza un secondo fine, ma tu sei gentile, sei un uomo gentile, non c'è nessun fine, non mi vuoi portare al cielo, non c'è... e questo apre gli occhi anche a Serena. non c'è nessuno, 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 ma io non credo tanto nei modelli come non credo nelle etichette, credo che... stiamo raccontando proprio in questo film la libertà di essere se stessi e di vivere, di dare un fosfo alla propria natura e dunque di non chiudersi in un cliché. Perciò il modello ideale è un modello... personale. Chiaro no, sì, è un modello personale. Il mio modello è chiaramente il modello dell'eroina, della donna coraggiosa, della donna che riesce a far tutto, della donna che riesce a lavorare, della donna che però riesce ad essere dolce, la donna che è tutto. La donna è tutto e forse è difficile come dire creare un modello, avere in mente un modello perché creare un modello, credere come dire in un modello, cioè avere un ideale sì, ma come dire creare dei modelli significa dare anche delle etichette, che è quello da cui vogliamo proprio scollarci. Sono d'accordo, sono d'accordo perfettamente, nel senso che proprio questo film parla dello scardinare proprio i modelli di... cioè bisogna essere così anche perché poi diventano delle modelle, quindi tutti quanti cercano di essere quello che in realtà non sono, quindi il modello ideale è quello, il modello personale, quello che comunque la femminilità uno se la sente dentro e la vuole comunque tirare fuori anche in un modo del tutto personale e originale, quindi già se c'è un modello vuol dire che non è originale perché comunque sicuramente è un modello che appartiene a tanti, non è possibile. Cioè non voglio fare candido, però nel migliore dei mondi possibili, diciamo, cioè non voglio fare il candido di Voltaire della situazione, però nel migliore dei mondi possibili, in età adolescenziale, bisognerebbe non avere quasi dei modelli e crearne di propri, perché il non sentirsi conformi a dei modelli a volte ti causa delle ansie, delle difficoltà, ci si sente... Dei confronti con quel modello, certo. Ma è proprio questa la domanda, è proprio provocatoria in questo senso, perché l'ideale... Papi, allora tutti arrivati... Certo, l'ideale sarebbe proprio che, cioè mi piacerebbe che appunto io stessa da adolescente assolutamente tendevo a dei modelli e mi sentivo, ci si sente inadeguati sempre, ma ci si sente inadeguati da adolescenti come ci si sente inadeguati da adulti. Che poi ci sono i più... Invece l'ideale sarebbe proprio cercare di, come dire, sostenere le proprie, cioè riconoscere per tempo le proprie qualità, purtroppo la saggezza arriva tardi e invece la vita ideale sarebbe quella rappresentata in quel film Benjamin Button, cioè tornare indietro, l'ideale sarebbe quello, perché se rivedrebbe nell'adolescenza con una consapevolezza totale e quindi una grande preparazione per viversi gli anni più forti, gli anni di maggiore forza, anche fisica, gli anni migliori con una consapevolezza che purtroppo si raggiunge soltanto da anziani, da vecchi. Un saluto agli amici di Fan Week. Ciao. Ciao.